Un viaggio attraverso lo stivale, da Bolzano sino alla Sicilia, passando per l'Aquila. L'impresa è di Marco Toppan, quarantenne ambasciatore dell'Avis provinciale di Treviso, che sta facendo il suo giro solidale a favore della donazione e della ricostruzione del Tempio del Donatore a Valdobbiadene, Treviso. Il suo cammino, rigorosamente su due ruote, ha toccato anche i comuni terremotati del centro Italia e l'Aquila durante la perdonanza. Infatti, sia Marco che la sua bici sono passati pure attraverso la Porta Santa. Ad accoglierlo e risottolineare l'importanza della donazione di sangue, la presidente comunale dell'Avis assieme al presidente provinciale. La tappa di ieri da Camerino ad Arquata del Tronto mi ha già fatto vedere un bel po' di cose suggestive dal punto di vista emotivo. E la tappa di oggi è ancora di più, forse passando da Matrice e arrivando all'Aquila, poiché è il simbolo del terremoto del 2009. Due giorni di emozioni molto forti che mi hanno sicuramente lasciato un segno, un segno importante. Arrivare qui oggi alla perdonanza per me è ancora più importante, essere partecipe di questo grosso evento. Io ringrazio Marco innanzitutto e poi ringrazio anche la nostra organizzazione, gli avvisini miei. Io li chiamo gli avvisini miei perché ci si ritrova tutti quanti attorno a un obiettivo bello. E questa volta Marco ci ha dato la possibilità di riflettere di nuovo sulla donazione, è un messaggio forte che noi cerchiamo di dare in tutti i momenti. Però ci ha fatto riflette anche sul fatto che coraggiosamente lui attraversa l'Italia anche per cercare di rimettere a posto una sede di avvis che magari si trova in un paesino e che ha poche possibilità di avere una visibilità e quindi di essere recuperata. Ringraziamo innanzitutto Marco per questa impresa che effettivamente porta quelli che sono i principi della nostra associazione. In particolare da parte dell'Avis Provinciale dell'Aquila che raccoglie tutti quanti gli avvis comunali della provincia dell'Aquila. Essere qui all'Aquila in questo momento particolare con la perdonanza è veramente un evento formidabile e noi siamo stati fieri di essere partecipi di questa cosa.